Buonasera a tutti, l'Accademia mi ha incaricato di presiedere questo incontro con Carlo Ossola su Leonardo scrittore e di presentarlo, questo è il terz'ultimo incontro su Leonardo da Vinci, l'uomo universale, il terz'ultimo degli otto in programma, ma io mi esimo dal riassumere l'attività scientifica di Ossola, di ricordare le tantissime pagine, gli articoli, i libri che Ossola ha prodotto sui nostri classici seguendo il cammino della lingua, il cammino dello stile, il cammino delle idee che hanno inciso sul farsi della nostra cultura, della nostra storia, i testi insomma che hanno fatto l'Europa direi e che sono la nostra memoria. Ossola è dal 2000 docente di letterature moderne dell'Europa neolatina presso il Collège de France di Parigi, membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia dell'Arcadia, della nostra Accademia delle Scienze di Torino e ha scritto dei libri, non posso ricordarli tutti, fondamentali, i suoi volumi, Autunno del Rinascimento che ha avuto un libro straordinario che è uscito recentemente in una edizione ampliata, il libro su Giuseppe Ungaretti del 75, il libro dal titolo Dal cortegiano all'uomo di mondo dell'87, ha figurato e rimosso dell'88, altro libro importantissimo, Le Continental Anterieur, uno dei primi, del 2013, uno dei primi libri in francese che sono usciti e stanno uscendo ancora, bellissimo libro su Erasmo, insomma un'infinità di pagine importanti che tra l'altro si sono infittite, se così posso dire, in questi due ultimi anni, se penso a quelle pagine bellissime che lui ha dedicato e sta dedicando alle geografie e ai miti del vecchio continente, all'Europa ritrovata, ecco, come recita il sottotitolo, proprio se ricordo bene, il sottotitolo di uno di questi ultimi suoi libri, dedicati a quanto più ci appartiene, alle cose che ci appartengono, alle nostre letture, al nostro immaginario, anche ai nostri viaggi, insomma, alcuni di questi libri. Insomma, a ciò che del passato è un lascito risonante, uso questa espressione perché per Osso la letteratura è anche proprio questo, è quella tastiera rammemorativa, ecco, che fa risuonare le idee che durano, quello che dura, le idee che durano, che tengono, quelle che danno frutto, quelle che danno frutti, che fondano, quelle che confermano un'appartenenza, ecco, confermano un'appartenenza, e penso proprio ai suoi libri europei, come li ho appena chiamati, e ricordo appena il secondo libro della serie, dal titolo Nel vivaio delle comete, figure di un'Europa a venire, si intitola, che parte da Sant'Agostino e finisce con Rilke, Bonnefoy, e è questo libro, come gli altri libri del resto, una sorta di costruzione di mattoni a vista, posso dire così, tenuti insieme da un cemento a lunga presa, che compatta le parole e le cose, le immagini e le parole, le cose del vecchio nostro continente, diceva, e questo continente lui in questi ultimi anni lo sta mettendo in piedi, lo sta riedificando in qualche modo, lo erige affinché noi, affinché l'uomo lo possa abitare, questo edificio di cui, ahimè, alcuni sciagurati vorrebbero allargarne le crepe, ma questo dispiace gran parte di noi, insomma, ecco, Ossola è uno di quei maestri che va veramente, tenacemente, predicando, non nel deserto, ecco, certamente, va predicando di questo edificio, del quale Leonardo è stato uno dei sommi artefici, che in questo edificio noi dobbiamo sempre più, non allontanarci, ma sempre più radicarci, sempre più profondamente stabilirci, e nei decenni a venire, stabilire qui, ecco, la nostra dimora, non solo reale, ma anche, o soprattutto, culturale, spirituale, ecco. Ma non voglio rubare neanche un minuto a Carlo Ossola e a Leonardo, scrittore, è dedicato a questa sua conferenza, e ti ringrazio per essere qui. Grazie, grazie molto a Gianluigi Beccaria per questa presentazione troppo generosa. Dirò soltanto che il tema mi è molto caro, proprio mi è caro Leonardo, scrittore, ringrazio l'Accademia e il suo Presidente di avermi invitato, perché questo mi ha permesso di ritornare su testi che mi sono cari. Siccome questa conversazione segue altre che sono state dedicate al Leonardo, come dire, più radicato nella storia della scienza, della cultura e delle arti, questo aspetto apparentemente minore delle lettere, merita però qualche, diciamo, qualche piccolo approfondimento. Allora vorrei dividere in tre, grossomodo, la conversazione. Da un lato, dicendo che Leonardo è, dal punto di vista delle lettere, un autore recente, e vedremo perché, e secondariamente che è un autore che molto deve, dal punto di vista letterario sempre, al codice che è conservato a Torino. e non lo dice, diciamo, un torinese per elogio della propria città, ma lo scrisse molto finemente André Chastel in un saggio che poi è stato riunito post-mortem, sono una raccolta di tre saggi apparsi nel 2002 a Parigi, e in uno che si intitola I limiti del sapere scientifico in Leonardo, questo titolo già è abbastanza provocatore, la pagina d'apertura è dedicata a questo frammento che è nel codice sul ruolo degli uccelli conservato qui alla nostra biblioteca reale. Ed è un passaggio di metodo che vale per le lettere, per le scienze e per le arti. Probabilmente è già stato citato, ma siccome non tutti saranno stati a tutte le conferenze, lo rileggo lo stesso, tanto per incardinare Leonardo nella storia della nostra città. E di tanto vilipendio che ho della bugia, se ella dicesse ben gran cose di Dio, ella toglierebbe grazia alla sua Deità. Ed è di tanta eccellenza la verità che se ella laudasse anche cose minime, elle si farebbero nobili. Sansa dubbio, tal proporzione è dalla verità alla bugia quale è dalla luce alle tenebre. Ed è essa verità in sé di tanta eccellenza che, ancora che ella si estenda sopra umili e basse materie, senza comparazione «Ella eccede le incertezze e bugie estese sopra limagni e altissimi discorsi». Perché la mente nostra, ancora che ella abbia la bugia per quinto elemento, cioè i quattro elementi che costituiscono il fuoco, il quinto è la bugia, la menzogna, non resta però che la verità delle cose non sia di sommo nutrimento degli intelletti. Ecco, la verità è di sommo nutrimento degli intelletti fini, ma non di vagabondi ingegni. E qui Leonardo, eppure noi ricordiamo per la dispersione curiosa della sua attività, è però teorico degli intelletti fini, non dei vagabondi ingegni che si perdono nelle curiositates. Ora, questa accentuazione è tanto più importante perché vedremo tra poco e poi Leonardo nel fondo del proprio pensiero non è sempre fedele a questo primato, come dire, del vero intellettuale. Fatta questa premessa, vorrei però dire che il ritardo storico con cui noi apprezziamo oggi Leonardo letterato è un ritardo dovuto alla tradizione delle sue opere e non alla minore importanza dei testi suoi. Anzi, personalmente credo che per rimanere fedeli al titolo delle nostre conversazioni, cioè uomo universale, Leonardo con Leon Battista Alberti sia il più importante degli autori, degli artefici, diciamo meglio così, comprendiamo anche le arti, diciamo così, della fabbricazione di opere di tutto il Quattrocento. Leon Battista Alberti è stato economista della famiglia, è stato architetto, è stato romanziere, il suo Momus è il primo romanzo della letteratura italiana, è stato uomo di corte, era abbreviatore apostolico alla corte del Papa, e così via. Cioè, Leon Battista Alberti ha effettivamente fondato dei generi, ha ereditato i libri della famiglia dalla tradizione trecentesca, soprattutto fiorentina, ma li ha sistematizzati in modo che poi sono diventati dei veri e propri generi letterari. Ma Leonardo altrettanto, ma mentre Leon Battista Alberti è riconosciuto come autore letterario, non fosse che per questo straordinario romanzo latino il Momus, a Leonardo si concede la parte letteraria solo come supporto alla sua attività di ingegnere, di pittore, di studioso di anatomia, del volo degli uccelli, delle macchine. Ora non è precisamente così. Il ritardo viene dal fatto che le opere di Leonardo sono state conosciute lentamente, potremmo dire grosso modo, che Leonardo è un autore dell'ultimo secolo e mezzo. Poi vi dirò anche perché. Cioè nasce sostanzialmente la sua opera letteraria quando l'Institut a Parigi, per mano di Charles Ravesson Molian, pubblica in sei tomi i codici della Biblioteque dell'Institut. Sono codici molto importanti e finalmente trascritti e tradotti in francese. Ma siamo già in un'opera che è durata oltre dieci anni alla fine dell'Ottocento. 1881-1891. Prima si conosceva Leonardo, ma si conosceva in una maniera che è stata la sua fortuna e in parte la sua sfortuna per il trattato della pittura che venne trascritto in realtà dall'allievo Francesco Melzi e la trascrizione ha permesso intanto di uscire dalla grafia di Leonardo che è ad occhio normale indecifrabile. Sono tre poi, a parte il Molian quelli che l'hanno ben tradotta e compresa. Un italiano molto glorioso che è più matti alla fine dell'Ottocento e inizi del Novecento poi Carlo Pedretti e ora Carlo Vecce. Se non si passa di lì dobbiamo accontentarci delle trascrizioni. Ora, il trattato della pittura è l'unico che è stato trascritto quindi in forma leggibile al nostro occhio pigro e non a specchio da appunto da Francesco Melzi ma nonostante questo benché gli studi di François Sviate e anche di Anna Sconza abbiano mostrato e questo libro circolava nelle mani degli allievi è circolato molto a Parigi molto in Lombardia e così via però di fatto non arriva alle stampe che un secolo e mezzo dopo la morte di Leonardo cioè a Parigi nel 1651 anzi piccola parentesi queste polemiche dei giorni nostri quello che più manca è la coscienza storica come al solito cioè Leonardo dal punto di vista della tradizione cioè degli strumenti per conoscerlo è sicuramente per i primi secoli più francese che italiano anche perché questi manoscritti dell'Institut sono stati pubblicati lì ma poi c'è un'altra ragione più seria che dirò tra poco ora questa edizione del trattato della pittura esce in italiano a Parigi nel 1651 ma fino al 1733 quindi altri 80 anni non abbiamo una vera edizione italiana Napoli sarebbe anche interessante ma non voglio fare solo storia della bibliografia Napoli 1733 che in realtà è una ripresa della seconda edizione parigina del 1733 potremmo dire in realtà che Leonardo diventa un autore europeo dal punto di vista degli scritti con questa fase insomma protoromantica in Europa non è circolato come la forma del classico darò poi un esempio ma come una forma incerta di lunghe ombre se non proprio di tenebre tant'è che solo alla fine del settecento abbiamo a Norimberga un'edizione in tedesco a Madrid un'edizione in spagnola e in spagnolo e ultima Londra 1802 questo è il corpo degli scritti di Leonardo che si conosce in Europa fino all'inizio dell'ottocento è sostanzialmente limitato al solo trattato della pittura che in realtà è una trascrizione di Francesco Melzi ora gli studiosi i filologi hanno mostrato e Francesco Melzi è piuttosto fedele è piuttosto fedele ma diciamo l'ordine della disposizio vale a dire come metto le cose in seguito l'una all'altra non sappiamo se interamente di Leonardo o se parzialmente anche di Francesco Melzi poi comincia la conoscenza la conoscenza dei codici e di ciò che nei codici vi è ai margini in basso a fianco di parte propriamente letteraria che in realtà sono spesso e volentieri delle lunghe e magnifiche descrizioni Leonardo è uno dei maestri dell'arte del descrivere che cosa bisogna ritrarre è proprio un teorico direi della allora il primo testo probabilmente è già stato ricordato il primo testo fuori della pittura che circola in Italia di Leonardo è Del moto e misura dell'acqua Bologna 1826 e 28 questa non ho avuto tempo di farlo ma ha una diciamo una precedenza importante perché poi di lì questa idea del Leonardo o delle acque arriverà se ho tempo spero di poterle illustrare fino alla teoria del montaggio cinematografico di Einstein perché è un primo testo che circola in Europa e questa idea dei vortici delle acque delle spume del diluvio eccetera eccetera seducono Eisenstein e nella teoria del montaggio 1938 prende come primo autore di cinematografia scritta Leonardo quindi questo è un testo che avrà una lunga storia e una storia importante però se vogliamo arrivare effettivamente alla raccolta quasi completa delle opere letterarie di Leonardo bisogna aspettare l'edizione di Londra in due volumi 1883 a cura di Jean-Paul Richter quindi 1883 allora vuol dire che Leonardo in sostanza è un autore letteraliamente noto da soli 150 anni poi seguiranno il codice sul volo degli uccelli quindi i due più importanti il focus insomma sono le acque e poi il volo degli uccelli in una impresa lunga fatta in 15 o 16 fascicoli durati più di dieci anni appunto fatta da da Giovanni Piumati e poi il codice atlantico della biblioteca ambrosiana di Milano pubblicato anche questo in fascicoli in una decina d'anni dalla tipografia dei lincei a Roma la prima edizione diciamo come questa insomma in forma di libro addirittura è del 1899 frammenti letterari e filosofici trascelti da Edmondo Solmi pubblicato a Firenze da Barbera nel 1899 in sostanza soltanto con l'inizio del novecento l'oggetto libro cioè Leonardo scrittore prende la propria legittimità in questa veste che cercherò poi in medio di spiegare scritti letterari e filosofici non bisogna dimenticare che Leonardo a fine ottocento è soprattutto pensato come un diciamo un filosofo della materia e talvolta persino un mago un ermetico uno sperimentatore insomma più filosofo in senso largo del termine che letterato tuttavia dobbiamo diciamo la la forza di questo mito a Baudelaire cioè chi inventa veramente Leonardo è Baudelaire è anche il primo che scrive quando di Leonardo si conoscono quelle due tre opere non di più Baudelaire era un frequentatore assiduo dei musei ha scritto il Salon che è un'opera straordinaria è un vero critico d'arte ma certo che uno dei suoi poemi più noti è i fari quelli che illuminano diciamo il nostro cammino e Leonardo vi appare subito il primo è Rubens Rubens fleuve d'oubli jardin della pares oreiller di chair fraiche dove l'on non 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 la vita afflue e s'agit sans cesse come l'air dans le ciel e la mer poi secondo è subito Leonardo Leonardo vinci miroir profond e sombri o des anges charmants avec un doux souris tout chargé de mister apparece all'ombre des glaciers e des pins che form leur pays allora questa quartina ha anche una credo una spiegazione proprio localizzabile ma prima ricordo è noto a tutti ma è bene in questa sede ricordarlo che di questi fari i due che precedono Rubens e Leonardo sono seguiti da Rembrandt non sceglie male Baudelaire Michelangelo Puget Vatteau Goya e De La Croix e non è una diciamo un ecfrasis una una descrizione tra lettere e pittura è un manifesto di poetica perché poi come ricordate Baudelaire Ciu De Con ces maledictions ces blasphèmes ces plaintes ces extases ces cris ces pleure ces tedeum sono un eco redit par mille labyrinthes c'è per le cœur mortel un divino opium c'è c'è seigneur le meilleur témoignage che nous puissons donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui rulle dal chanage et vient mourir au bord de votre eternité un singhiozzo quello di questi pittori che viene a morire ai piedi della vostra eternità un testo fondamentale allora Leonardo da quel momento diventa non un pittore di incerta collocazione ma diventa uno dei grandi fari della civiltà occidentale si potrebbe anche pensare tenendo conto di quello che c'era allora all'ouvre che probabilmente quando Baudelaire nel primo verso lo definisce Leonardo de Vinci miroir profond e sombre specchio profondo e cupo abbia in mente proprio l'unica cosa che di Leonardo si conosceva allora cioè il trattato della pittura perché Leonardo nel trattato della pittura dedica una serie abbastanza impressionante di paragrafi allo specchio come maestro dei pittori e cioè dice che per ben dipingere bisogna comparare ciò che appare riflesso nello specchio e quello che si è dipinto e poi comparando vedere se assomiglia alla cosa che era da ritrarre sono molti i paragrafi che vengono dedicati allo specchio come lo specchio è il maestro dei pittori come la vera pittura sta nella superficie dello specchio piano eccetera eccetera quindi è possibile che questa centralità questo primo questa definizione di Leonardo come specchio venga proprio dal trattato di Leonardo il secondo cuplè è forse più facilmente decifrabile cioè con un dolce sorriso carico di mistero questo è verissimilmente predicabile alla Gioconda e poi dice autore où des anges charmants apparaissent all'ombre des pins che fermano leur pays dove angeli appaiono all'ombre di pini che chiudono che serrano il paesaggio è probabilmente un ricordo di un'altra opera che è a Louvre cioè la Vergine delle Rocce che effettivamente ha questo tipo di figurazione quindi è molto probabile che qui sia un ricordo vivo esperienziale potremmo dire della di Baudelaire certamente questa diciamo questa presenza viene si impone e da quel momento potremmo dire poi studiato quindi non sto a ripetere una mia allieva Sandra Migliore che ha pubblicato un libro con bellissima prefazione di Carlo Pedretti tra Hermes e Prometeo questo mito ottocentesco di Leonardo dura poi fino a Chiré quello famoso dei grandi iniziati che però ha un libro successivo che chiude questa parabola da Baudelaire a Chiré che si intitola I profeti del rinascimento pubblicato nel 1920 e questi profeti ci siamo in pieno centenario sono Dante Leonardo Raffaello e Michelangelo allora uno dietro l'altro li abbiamo quest'anno Leonardo il prossimo centenario della morte di Raffaello e nel 21 Dante però qual è ciò che distingue questi profeti la fari qui profeti proprio una lunga durata è il fatto capitolo quinto che Leonardo da Vinci è il genio della scienza con una parte seconda all'interno di questo capitolo che si intitola Le Romance di Mona Lisa il romanzo di Mona Lisa e il capitolo sesto quello dedicato a Raffaello è Raffaello o il genio della bellezza quindi Leonardo la scienza e Raffaello la bellezza ecco questo ha veramente determinato la lettura di Leonardo per il ventesimo secolo e mi pare anche che non si sia modificata nel ventunesimo avendo diciamo ricordato Chastel vorrei anche ricordare chi ha determinato per il novecento la lettura di Leonardo ed è Paul Valéry Paul Valéry ha pubblicato una prefazione ai carnet ai quaderni di Leonardo da Vinci pubblicata nel 1942 e questa è stata poi la lettura che si è imposta da allora in poi in particolare attraverso un allievo in parte vero in parte adottivo di Valéry e cioè Chastel allora vi cito questo passo della prefazione di Valéry ai quaderni di Leonardo perché dice bene giustifica anche il titolo di questa di questa serie mi propongo di immaginare un uomo e impongo a lui un sentimento della differenza delle cose così vivo che le avventure di tale sentimento potrebbero benissimo denominarsi analisi mi accorgo che ogni cosa lo orienta è all'universo che egli costantemente pensa e al rigore è fatto per non dimenticare nulla di ciò che entra nella confusione di ciò che è nessun arbusto anche qui è il trattato della pittura quasi certamente perché Leonardo con Plinio è quello che dedica più attenzione a alberi cortecce rami foglie ombre delle foglie eccetera eccetera nessun arbusto scende nelle profondità che appartengono a tutti vi si inoltra e si osserva arriva a impadronirsi delle abitudini e delle strutture naturali le lavora in ogni senso e gli capita di essere il solo che costruisca e numeri commuova costruisca e numeri commuova ogni verbo è una definizione dell'opera di Leonardo edifica chiese e fortezze esegue fregi delegatissimi e grandiosi crea mille ordini e le raffigurazioni rigorose di ricerche innumerevoli abbandona qua e là i resti di qualche grande gioco sconosciuto in questi ozzi che partecipano della scienza la quale non si distingue affatto da una vera passione egli conserva la grazia di sembrar sempre rivolto col pensiero ad altra cosa lo seguirò mentre si muove nell'unità opaca e densa del mondo dove la natura gli diventerà così familiare che egli la imiterà per raggiungerla e finirà per imbattersi nella difficoltà di concepire un oggetto che essa non contenga a questa creatura del pensiero manca un nome che serva a contenere l'espansione di termini ormai così lontani da non poter essere afferrati e nessuno mi sembra più adatto di quello di Leonardo da Vinci ecco questo è una un'idea diciamo così della espansione della capacità di conoscere di Leonardo e poi questa prefazione termina con una parafrasi di un testo che è nel trattato della pittura in quest'uomo completo la conoscenza intellettuale non basta a esaurire il desiderio e la produzione delle idee anche le più preziose non dà soddisfazione all'impellente bisogno di creare l'esigenza stessa del suo pensare lo riconduce al mondo sensibile e la sua meditazione ha il compito di fare appello alle forze che costringono la materia alle forze che costringono la materia questo capolavoro di esistenza armonica e di plenitudine delle potenze umane porta il nome illustre di Leonardo da Vinci ora Valéry qui non faceva che parafrasare una serie di appunti di Leonardo che riguardano l'essere universale facile cosa è all'uomo che sa cioè l'uomo di intelletto fine come ho detto prima farsi universale impero che tutti gli animali terrestri hanno similitudini di membra cioè muscoli nervi ossa e nulla si variano se non in lunghezza o in grossezza come sarà dimostrato nella notomia e ci poi gli animali d'acqua che sono di molte varietà degli quali non persuaderò il pittore che vi faccia regola cioè che ne dia classificazione perché sono quasi di infinite varietà e così gli animali insetti bastano come dire quelli terrestri c'è questa prossimità dell'analogia universale per cui l'uomo per comprendere il creato deve essere universale il pittore debbe cercare di essere universale perché manca di assai dignità a far una cosa bene e l'altra male cioè se vuole imitare rappresentare la natura non può fare una cosa bene e l'altra male deve essere universale ecco forme di questo genere che Valerì appunto chiama in quest'uomo completo la conoscenza intellettuale non basta a esaudire il desiderio sono però costantemente anche nel trattato della pittura di Leonardo è stato detto a giusta ragione che Leonardo è legato alla scienza della prospettiva in fondo anche come Pacioli come Leon Battista Alberti come Piero molti uomini del Quattrocento la estende però qui lo cito dai proemi che sono scritti letterari proemi favole poi c'è un trattatello contro gli abbreviatori e così via alcuni sono proprio diciamo sistematici la prospettiva adunque ha da essere preposta a tutte le discipline umane nel campo delle quali la linea radiosa complicata da modi nelle dimostrazioni nella quale si trova la gloria non tanto della matematica quanto della fisica questo sarebbe da discutere ornata coi fiori dell'una e dell'altra la prospettiva è matematica più fisica c'è una spiegazione c'è Leonardo dice che se per la prospettiva questa è una critica ai fiorentini e se per la prospettiva si prende solo la matematica si perde l'impalpabile dell'aria che invece va dipinta e quindi c'è bisogno della fisica lo vedremo anche più avanti però è vero tutto questo è vero che è uno dei grandi teorici insomma della prospettiva però è anche un grande come voglio questa è proprio una citazione che faccio per Gianluigi è un grande come dire teorico della lingua italiana in un suo passo che è nella sempre nei proemi dice io ho tanti vocaboli cioè tanti vocaboli nella mia lingua materna che io mi ho piuttosto da dolere del ben intendere le cose che del mancamento delle parole cioè non arrivo a conoscere abbastanza ma le parole le ho quel che mi manca è la comprensione dunque ho piuttosto da dolermi del ben intendere le cose che del mancamento delle parole con le quali io possa bene esprimere il concetto della mente mia e quindi diciamo Leonardo è anche molto consapevole della sua capacità di uso della lingua in effetti questo trattato della pittura è uno sciorinare forme linguistiche variazioni di colore soprattutto quando parla dei colori e delle forme degli elementi più piccoli o di quegli elementi che sono non solidi non liquidi non abbastanza gassosi cioè le nuvole la polvere sollevata in alto l'acqua che fa le spume come che viene trapassata dai raggi del sole come le dipingo lì è veramente un virtuoso della lingua italiana o anche quando parla dell'anatomia anche quando si prende vesaglio per l'anatomia è uno che ha in mente diciamo un complesso il più armonico possibile e poi passa per vorrei dire linee esterne ma quando invece l'anatomia è descritta da Leonardo dice per fare il disegno di qualche venatura o da disfare più dei dieci corpi umani distruggendo ogni altro membro e prosegue e tu che di dici esser meglio il veder fare notomia che vedere tali disegni diresti bene se fossi possibile vedere tutte queste cose insieme che in tali disegni si dimostrano in una sola figura nella quale con tutto il tuo ingegno non vedrai e non harai notizia se non dal quante poche vene poche vene delle quali io per averne vera e piena notizia ho disfatti più di dieci corpi umani distruggendo ogni altro membro consumando con minutissime particole tutta la carne che dintorno a esse vene si trovava senza insanguinarle se non l'insensibile insanguinamento delle vene capillari guarda quanti neologismi insensibile insanguinamento delle vene capillari e un sol corpo non bastava a tanto tempo che bisognava procedere di mano in mano in tanti corpi che si finisse la intera cognizione dunque prosegue poi questo passo dicendo e questo anche per ragioni diciamo di polizia civile si poteva fare solo la notte poi bisogna passare da un corpo all'altro per evitare che l'insanguinamento non facesse vedere bene i nervi e le vene eccetera eccetera allora il fascino di questa scrittura di Leonardo è proprio direi la oltranza nell'analisi del minimo e lo dice anche Leonardo egli è vero che la impazienza madre della stoltizia è quella che l'alda cioè l'oda la brevità la brevità è figlia dell'impazienza come se questi tali non avessino tanto di vita che li servisse a poter avere un'intera notizia ad un sol particolare come il corpo umano e poi vogliono abbracciare la mente di Dio nella quale si include l'universo caratando quindi soppesando pesando a carati la mente di Dio e minuzzando quella in infinite parti come se le avessero anatomizzate potrei andare avanti vorrei però prima almeno di dire due parole sulla fortuna in attesa di Leonardo appunto padre del cinema contemporaneo dire almeno dare almeno due citazioni su due testi che sono direi ampiamente al di là della prosa media del Quattrocento cioè quando uno prende poi Poliziano Lorenzo De Medici e legge questi testi beh dice qui siamo effetti là siamo in generi letterari collaudati qui siamo in un altro universo c'è in particolare due raccolti diciamo due gruppi di frammenti che comunque non sono di poca cosa qui ho preso questa edizione curata da Carlo Vece che raccoglie solo non i frammenti dei codici ma solo quelli che hanno già in Leonardo una sorta di unità di genere cioè le favole e le profezie si capisce anche perché siano gli anni in cui abbiamo gli antipapi in cui la chiesa è scissa in tutte le direzioni e in queste profezie Leonardo arriva molto al di là di Machiavelli molto prima e molto al di là lo cito io vedo di nuovo venduto e crocifisso Cristo e martirizzati i suoi santi e poi anche davvero un po' una sorta di biblica condanna di questa di questa devozione fatta tutta di figure di di poco conto il titolo è delle pitture nei santi adorati cioè le pitture che si dedicano a commemorare i santi parleranno gli uomini agli uomini che non sentiranno avranno gli occhi aperti e non vedranno qui è il testo evangelico parleranno a quelli e non fie loro risposto chiederanno grazie a chi harà orecchie non ode e faranno lume a chi è orbo è come se tutta questa devozione finisse nel gran silenzio faranno lume accenderanno candele a chi è orbo chiederanno grazie invocazioni preghiere a chi harà orecchie e non ode quando si leggono questi testi ma sono tanti ma si vede nascere già proprio nell'humus di questa inquietudine di Leonardo la doppia immagine di Firenze che altrimenti non si spiega in pochi anni da un lato Savonarola e dall'altro Machiavelli ma in realtà sono già tutte e due in questo in questo scrivere di Leonardo c'è poi un paragrafo col quale chiuderei tranne due piccole appunto puntate sul novecento e cioè che Leonardo è stato amato credo soprattutto nelle epoche diciamo di accelerazione nelle epoche di forzatura nelle epoche di spinta per la sua capacità diciamo di notare l'improvviso tragico è un autore da improvviso tragico non è un autore da impromptu da salon i suoi impromptu ci sono ma sono su una finestra spalancata sull'abisso ecco questo è l'elemento leonardiano più forte le favole non sono per niente favole il granchio stando sotto il sasso per pigliare i pesci che sotto a quello entravano venne la piena con rovinoso precipitamento di sassi e col rotolarsi sfracellaron tal granchio l'inizio è lentissimo e lì il granchio che cerca di cogliere i pesciolini poi arriva una piena e se lo porta via altra favola il ragno e l'uva il ragno stante infra le uve pigliava le mosche che in su tali uve si passevano venne la vendemmia e fu pesto il ragno insieme alle uve c'è proprio non so è quasi bergmaniano arriva una specie di grande falce del tempo e si porta via tutto la vite invecchiata sopra l'albero vecchio cadde insieme con la ruina adesso albero e fu per la trista compagnia a mancare insieme con quello la vite e l'albero vecchio e poi ha soprattutto l'improvviso del furore ecco molte cose leonardiane non si capiscono bene se non sono comparate con i disegni e qualcuno ha osservato giustamente che i grandi manieristi lombardi come il Lomazzo che avevano davanti grazie a Francesco Melsi i disegni di Leonardo i disegni di Lomardo sono costantemente dei vortici di furore quella pittura così placata eccetera che vediamo nei pochi coppolavori di pittura rimasti integri la rete che solleva pigliare gli pesci fu presa e portata via dal furor dei pesci la rete va bene se ti accontenti di pesci piccoli ma se ne arriva uno grande ti porta via tutto e poi la doppia idea di eternità quella totalmente vana di tutte le cose che si anche le più durature che si disfano il pesante ferro si riduce in tanta sottilità mediante la lima che piccolo vento poi lo porta via anche queste forme che sembrano durare sono portate via ma inversamente la durata qui è proprio oraziano la durata dell'ingegno l'inchiostro disprezzato per la sua nerezza dalla bianchezza della carta la quale da quello si vede imbrattare vedendosi la carta tutta macchiata dall'oscura negrezza dell'inchiostro di quello si dole e il quale mostra a essa che per le parole che esso sopra di lei compone essere cagione della conservazione di quella la carta si conserva perché l'inchiostro l'ha imbrattata in bene allora Leonardo io credo che è un autore del ventunesimo secolo cioè va ripreso proprio come grande autore della letteratura italiana evidentemente non una letteratura diciamo così alla quale ci hanno abituato i manuali i quali ti presentano questo quattrocento umanistico alla maniera in cui ovviamente lo leggeva Burkhardt dalla sua bella Basilea la città perfetta Firenze l'uomo perfetto Lorenzo il Magnifico i testi perfetti quella del suo gruppo ma non è solo così non è solo questo c'è un altro quattrocento e aggiungo ancora un nome cioè uno l'ho già fatto Leon Battista Alberti che chiude con questo Momus che è una sorta di mondo rovesciato in cui gli dei hanno paura di essere abbandonati dagli uomini in cui più nessuna divinità vuol venire su terra perché gli uomini sono tutti malvagi insomma è un testo di estrema di estrema gravità diciamo Alberti Leonardo ma quello che è stato celebrato anche in tempi recenti da padre Pozzi eccetera è un testo magnifico con cui si chiude l'umanesimo cioè l'ipnerotomachia polifili ma come si chiude l'ipnerotomachia polifili con un tentativo di stupro questo qui arriva di notte e cerca di abbracciare la fanciulla non si capisce bene ma insomma si vede una scena quasi insanguinata e con quello finisce l'ipnerotomachia il che spiega bene una Italia che accelera la propria fine nell'ultimo quarto del quindicesimo secolo e la letteratura in certo modo antivede precede e accompagna le pagine sono troppe quindi tento una sintesi per dire come Leonardo arrivi sempre per questo frammento delle acque del diluvio a formare direi la cinematografia contemporanea e la filiera è questa e cioè che Eisenstein nella sua teoria del montaggio che è del 38 possedeva le opere letterarie pubblicate da Richter pubblicate da Richter e in effetti vi cito vi cito solo questo passo bellissimo nel quale egli dice che il grande frammento potremmo dire le pagine sul diluvio sono per lui il modello di quello che deve fare la cinematografia lo cito direttamente lo trovate nel nel volume pubblicato da Marsilio montaggio 1938 questo è il titolo si tratta lo cito di uno straordinario foglio di montaggio che da un ammasso di particolari e rappresentazioni parziali lascia immergere sensibilmente di fronte a noi l'immagine l'esempio è interessante perché non si tratta di un'opera letteraria compiuta ma degli appunti di un grande maestro il quale intese fissarvi per sua utilità l'idea che si era fatta del diluvio il foglio di montaggio di cui sto parlando contiene gli appunti lasciati da Leonardo da Vinci per la rappresentazione pittorica del diluvio ho scelto proprio questo brano perché in esso appare in modo straordinariamente chiaro il quadro audiovisivo del diluvio un fatto questo che non ci aspetteremmo di trovare in un pittore e quindi ancora più impressionante e cita questo attacco formidabile del frammento qui è Leonardo che parla vedeasi la oscura e nebulosa aria essere combattuta dal corso di diversi venti avviluppati dalla continua pioggia e misti con la granuola è una costante leonardiana e anche nel trattato della pittura l'acqua non è mai rappresentata in quiete cioè una superficie piana come fosse quella di un lago oppure di una marina come fanno i vedutisti ma viene presentata esattamente come nel frammento sul diluvio vedesi l'aria tinta d'oscura nuvolosità negli apparecchi delle procelle ovvero fortune del mare cioè i fortunali le quali sono mischie di pioggia e di venti con serpeggiamenti degli tortuosi corsi delle minaccianti folgori celeste e le piante piegate a terra con le arrovesciate foglie sopra i declinanti rami le arrovesciate foglie sopra i declinanti rami dei quali pare voler fuggire dagli loro siti come spaventate dalle percussioni degli orribili e spaventosi voli di venti fra li quali si infonde li revertiginosi corsi della turbolenta polvere arena degli liti marini è impressionante anche come qualità letteraria e ogni pagina di queste ha dei neologismi per la lingua italiana e poi Eisenstein continua quasi tutto montaggio 1938 è dedicato a Leonardo da Vinci e chiude dicendo è tuttavia fuori di dubbio che con questa descrizione trattino sequenza Leonardo da Vinci non intendeva solo elencare quei particolari ma anche tracciare la traiettoria che lo sguardo avrebbe dovuto seguire sulla superficie piana della tela cioè non un'istruzione per fare ma anche un'istruzione per vedere come deve fare il vero regista cinematografico stiamo qui ad uno splendido esempio di come nella compresenza apparentemente statica ma simultanea dei particolari di un quadro immobile si faccia uso della stessa selezione di montaggio e della stessa rigorosa successione di correlazione che degli elementi che si incontrano nelle arti temporali e poi chiude con un'osservazione che è abbastanza impressionante sulla quale poi chiudo con un'ultima citazione da un inedito film non fatto e inedito rimasto di Robert Bresson dice appunto Eisenstein nel diluvio di Leonardo gli elementi puramente plastici cioè visivi quelli del comportamento umano gli elementi dei rumori del chiasso e delle urla cioè quelli sonori si coordinano nell'unitaria e generalizzata immagine finale del diluvio non dimentichiamo che lo stesso diluvio di Leonardo è a sua volta un abbozzo e non uno schizzo dal vero è una sorta di trascrizione mentale che tenta febbrilmente di fissare tutti i tratti e l'immagine si presentano allo sguardo interiore di Leonardo questa è una chiave davvero per leggere Leonardo questi frammenti sul diluvio il 90% delle cose disegnate da Leonardo non hanno poi avuto luogo ma quello che interessa a Eisenstein è una chiave che offre a noi è lo sguardo interiore questa composizione interiore un po' alla Michelangelo che detta questo che anche potrà mai esistere perciò in questa descrizione abbondano non solo gli elementi figurativi e plastici ma anche gli elementi sonori e drammaturgici ecco quindi Leonardo è diventato un po' il padre delle arti contemporane compreso il cinema ma vorrei terminare con un altro autore devo purtroppo saltare tutte le prove quindi però se qualcuno vuole diciamo una prova approvata ce l'ho ecco è qui ma non voglio esibirle e cioè il fatto che a un certo punto della sua carriera Robert Bresson regista indimenticabile uno dei grandi maestri decide di fare in cooperazione ORTF come si chiamava allora la televisione francese e RAI terzo programma diretto da Rossini una genesi che poi è stata fatta negli anni molti anni dopo da Bernabèi eccetera eccetera ma è un vecchio progetto di Bresson Bresson era nato come scrittore surrealista e scrive egli stesso il copione è un vero testo di grande letteratura dopodiché in uno dei soliti rovesciamenti di governo la prima cosa che cade in Italia una volta era la lira e sempre comunque i vertici della RAI questa è la prova provata della continuità perfetta cambiano maggioranze minoranze ma rimane questo principio assoluto invalicabile che a ogni governo cambiano i vertici della RAI e quindi quest'opera Rossini venne diciamo giubilato e allora dovetti portare una lettera a Bresson ero lì a studiare alla Mazarin e Bresson mi ricevette ma il primo minuto fu tremendo nel senso che un minuto di silenzio è insopportabile dopodiché da magnanimo qual era ha capito che ambasciatore porta pena ma fino a un certo punto e mi ha dato una mezz'ora lei viene alle 4 alle 4 e mezza io la congedo perché ho altri impegni e mi ha tenuto invece fino ai 6 e mezzo e alla fine mi dà questo manoscritto che è un testo leonardiano e esenstagnano nello stesso tempo perché nella diciamo nel 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 suo comporre in quello che già prima era nelle note di cinematografia Bresson riprende alla lettera quelle che sono le gli attributi dell'occhio cioè oscurità e chiarezza materia e colore forma e posizione allontanamento e prossimità movimento e riposo di questi dieci termini leonardiani ne ripete sei quindi è proprio uno che ha letto leonardo ma soprattutto e vengo diciamo così alla alla fine Bresson detta per così dire la scoperta di di Eva esattamente come in una sorta di proseguimento del testo leonardiano sono obbligato ovviamente anche qui per fedeltà proprio alla fonte a leggere leonardo nella traduzione francese che aveva a disposizione Bresson e accanto la formula di questo copione di una quarantina di pagine leonardo è il frammento del diluvio animo s'anéchappo dei cadavri d'hommes de femmes de bœuf de vaches de chiens de debris di tutte sort battent ses flan allora in leonardo leon è una continuità diciamo così impressionante il vero peccato è che poi non ci sia rimasto il film probabilmente non ci sarà più neanche il manoscritto perché la vedo non me lo lascia pubblicare con una ragione che è anche comprensibile cioè per Bresson un film è tale quando è fatto tutto il resto una preparazione inutile però un testo bellissimo e temo che un giorno o l'altro si perderà chissà dove comunque per chiudere davvero la meditazione ecco questo sguardo interno che ci consegna leonardo attraverso i suoi scritti arriva fino a figurare diciamo così l'invisibile mi rimprovererai di aver rappresentato i diversi percorsi del vento nell'aria poiché il vento di per sé non è visibile e a questo quindi hai fatto un lavoro inutile rimprovera questo io rispondo che si vede nell'aria non il movimento del vento ma quello delle cose che gli trascina via con sé e che sole sono visibili forma geniale che diciamo ha permesso di dar libero corso le invenzioni a tutte le le arti cinetiche la stessa teoria oggi delle installazioni senza questo frammento di Leonardo non avrebbe senso e Bresson alla fine del suo dattilo scritto dice traduire il vento tradurre il vento invisibile per mezzo dell'acqua che gli scolpisce passando che è esattamente la stessa formula di Leonardo quindi io credo e davvero con questo chiuso che Leonardo sia uno dei grandi della letteratura italiana che sia un faro come l'ha visto Baudelaire che sia anche un profeta del cinquecento come l'ha visto Chure perché ha permesso attraverso queste osservazioni diciamo così di legittimare di motivare di dare radice a arti contemporanee come la cinematografia e quella parte mobile della cinematografia che è l'installazione intesa nel senso di Bill Viola o Viola che vogliate dire cioè un'installazione non è una cosa ferma perché altrimenti una scultura se è una cosa in movimento si deve sostanzialmente giustificare come un po' si deve giustificare la cinematografia quindi lunga vita Leonardo che è appena nato diciamo ecco magnifico magnifico non bevi tutti ringraziamo molto Carlo Osso per questa ricostruzione rilettura nuovissima inedita insomma ricchissima impressionante a volte insomma i passi che c'hai letto sui vortici e poi tutta questa questa attualità insomma di Leonardo Leonardo e Baudelaire Leonardo e Valeria Leonardo e Bresson e poi questa idea del 400 come hai già detto più volte che ci è stata a volte trasmessa in maniera questo equilibrio e questa armonia che va veramente a carte 48 in questi vortici e in questi diluvi ma di questo è nostra consuetudine il tempo ce lo permette ce lo permette ancora sì ampiamente insomma il tempo c'è di rivolgere ai presenti per chiedere loro se ci sono domande richieste di chiarimenti da rivolgere al relatore quindi se chi di voi ha voglia di intervenire di chiedere cose a Carlo Ossola ecco il tempo c'è quasi un peccato che tu abbia dovuto poi appunto ma il tempo è quello che soprattutto l'ultima parte sacrificarla insomma ecco ci sono aspetta che le passiamo le passiamo un microfono ecco provo a fare una domanda ecco a proposito dell'uomo universale che tanto Leonardo declamava ma con gli occhi così di una persona del ventunesimo secolo faccio questa domanda qui quanto la cultura della guerra comunque era radicata nell'epoca per cui si può si può diciamo scusare Leonardo di aver anche così messo a disposizione il suo ingegno per creare delle opere belliche questa è la domanda che faccio comunque a livello umano ecco non in qualità gli storici come siete cosa ne pensate voi grazie ma sono molte domande in una anche molto complesse quindi cercherei di sciogliere le domande prima di tutto cioè c'è una tensione già in Leonardo tra esigenza di verità e necessità di sperimentazione la sperimentazione è necessaria ma non è detto che porti alla verità ed il resto come controllare che la sperimentazione fatta sia verità secondo Leonardo come abbiamo visto dice l'uomo universale perché ha questo rapporto di analogia senza fine con tutto il resto del creato e quindi questa diciamo analogia non è contenibile e l'analogia richiede dei ponti è anche una delle ragioni per le quali Leonardo sperimenta per dipingere materia sensibile come sono mettiamo gli arbiri e le foglie dei pimenti naturali pimenti naturali che poi non si conservano cambiano si si guastano si corrodono hanno le muffe eccetera eccetera e via via cioè c'è questa così dal punto di vista noi diremmo metafisico il suo mondo è molto è molto fisico e quando deve prendere in consegna le cose metafisiche come abbiamo letto le le sperimenta le fa soggiacere recentemente assistevo a Roma a una conferenza su Leonardo per l'appunto in cui il conferenziere ricordava che erano Roma negli stessi anni cosa meravigliosa mai più data Michelangelo Bramante Raffaello e Leonardo ora i primi tre hanno lasciato tutti delle opere a Roma Leonardo faceva anatomie ecco cioè anche un po' questa diciamo questo modo molto molto diverso dal creare opera Leonardo è studiare studiare lo si è visto in quei passi sulla sull'anatomia è molto difficilmente per questo è un autore che è di là da venire perché supera l'idea stessa di manufatto è un po' lo dice anche lo dice anche Chastel a un certo punto è un po' come lo chef d'oeuvre connu ecco è uno che dipinge tutta la vita e gli rimane un piedino alla fine è una delle cose più belle Leonardo è un po' così chissà quante cose avrebbe fatto con le macchine il volo degli uccelli le fortificazioni sono rimasti delle cose ma è come il chef d'oeuvre connu ecco un piedino rispetto a tutto il resto rialacciandomi a quanto dicevi della presenza forte di Leonardo nella letteratura francese e il discorso su Valéry anche è stato illuminante a questo proposito mi viene in mente una citazione di Proust che al momento di definire l'amore dice l'amore per noi è quello che è la pittura per Leonardo cosa mentale questa espressione che Leonardo usa per la pittura quando dice che la pittura è cosa mentale parole che Proust cita in italiano e secondo Proust si possono applicare all'amore perché noi nella nostra mente ci formiamo un'immagine della persona amata e su quella si fonda poi il nostro amore ti ringrazio moltissimo di questa scheda Proustiana che ancora di più va nella direzione insomma citata da Eisenstein cioè lo sguardo interno forma mentale ecco effettivamente del resto i manieristi cioè l'omazzo quelli che avevano i disegni di Leonardo dicevano che il disegno è una forma interna l'esecuzione è solo una parte il disegno è una forma interna è una forma mentale lì si vede bene che Proust è vero allievo di Raskin cioè che ha proprio seguito bene questa traccia grazie in quale è della serie non mi ricordo non ti so situare a proposito di Albertina e dell'amore ma te la posso trovare facilmente ma ti ringrazio moltissimo mancava Proust a Leonardo adesso il quadro è completo grazie allora siccome tutti facciamo un mestiere difficile soprattutto in questo tempo passiamo inascoltati Leonardo ha anche una grande consolazione sempre nelle profezie de noci battuti cioè gli alberi che fanno le noci che vengono battuti perché possano cascare le noci quelli che haranno fatto meglio saranno più battuti e ai figlioli suoi tolti e scorticati ovvero spogliati e rotte e fracassate le sue ossa ecco questo è tipico di Leonardo cioè da un lato è la descrizione materiale di come si fa a battere un po' come con le olive a battere il noce perché cadano giù però c'è sempre questo secondo livello metaforico per cui non si sa se il noce o se è predicato all'umanità di chi fa bene quelli che avranno fatto meglio saranno più battuti e spogliati e rotte e fracassate le sue ossa ecco insomma quando ciò accade ricordiamoci di Leonardo siccome sembra che stia per accadere ricordiamoci di Leonardo ecco un punto di vista materialista io ho letto tutti i pezzi del trattato sulla pittura non li conoscevo mi sono anche molto divertito ma li ho capiti ancora meglio se io prendo una frase o un pezzo e gli metto accanto il disegno che lui aveva che ne ha fatti tantissimi in questo senso secondo me lui è del ventunesimo secolo oggi i libri si fanno spesso illustrati sempre di più c'è una contaminazione tra le parole le immagini e anche nell'arte è così anche nell'arte è così hai molto ragione ti ringrazio ed era anche un'osservazione di Carlo Pedretti che è stato il grande studioso di Leonardo il quale diceva staccare i brani letterari dal contesto di disegni in cui sono fa perdere una grande porzione del fascino che si hanno così come si perde visto che è evocato Proust molto del fascino dell'ossessione della scrittura proustiana quando non si vedono ma non si possono vedere se non quando fanno le mostre questi manoscritti che vengono giù come dei rotoli dei rotoli talmudici o come delle tende insomma come volete tante sono le varianti o le rappresentazioni grafiche questo è verissimo e anche un certo senso vale per i frammenti di Pascal pubblicarli così senza ci sono adesso queste edizioni peraltro illegibili di come erano collocate queste lias per così verticalmente dentro una nicchia sottolineati tagliati ecco questo è diciamo una sorta di filologia in atto che per ragioni diciamo economiche ormai non possiamo più permetterci ma certamente che andrebbero andrebbero letti così ecco il quesito che vorrei porle esula leggermente dall'argomento trattato da lei questo pomeriggio perché è pertinente alla musica perché una figura così eclettica nella sua creatività stranamente non ha non ha nulla di particolareggiato nella musica a me pare di aver letto che lui abbia realizzato un prototipo su uno strumento musicale che si chiama viola organaglia che si differenzia dalla viola pomposa dalla viola da gamba dalla viola da braccio ma che mantenga le caratteristiche sia della ghironda per quanto concerne la presenza delle corde e dell'organo per la presenza di una tastiera per caso lei ne ha notizia è vero non è nell'argomento trattato però nessuno degli appuntamenti presenti alla figura di Leonardo trattano lui come musicista e neanche come realizzatore di eventi coreografici legati e eventi quali comunque sia notizia che lui abbia realizzato dei momenti di feste con studi e realizzazione di macchine per quello scopo grazie la ringrazio molto tanto dell'informazione non conoscevo questo dettaglio chiederò a Carlo Vecce se ha notizia di questo che però l'aspetto sonoro sia fondamentale nella descrizione diciamo nel come dicevano i nostri maestri nell'organare la rappresentazione è confermato da quello che ho letto di Einstein cioè Einstein dice che le descrizioni di Leonardo hanno anche il vantaggio di essere movimento sonoro non solo cinetiche ma movimento sonoro e quindi dal punto di vista della della materia fonica ecco della parola siamo abbastanza sicuri che poi di lì sia discesa l'idea di fabbricare uno strumento bisogna che chiederlo agli specialisti lo chiederò a Carlo Vecce poi mi interessa anche personalmente perché nel settecento per esempio sono stati realizzati lì sì dei dei clavicembali che in cui la nota era sostituita dal tono del colore perché bisognava uscire da un diciamo da una musica quantitativa a una musica di di coloriture di toni appunto di toni e a Berlino e anche da altre parti vennero fatti di questi clavicembali anche descritti da un nostro scrittore si chiama Gian Battista Roberti credo che dobbiamo chiudere perché ho avuto già appunto indicazioni di no ma siamo stati nei tempi ti ringraziamo moltissimo per questa tua collezione magistrale così ricca così nuova così insomma non ci muoveremmo più e continueremo a chiedergli delle cose perché Leonardo poi ha fatto tutto anche questo degli strumenti musicali anche per me assolutamente nuovo grazie anche a nome di tutti grazie a tutti grazie a tutti